e rieccomi qua con tutti voi buonasera ben arrivati ciao a tutti allora questa sera parleremo di leonardo giù le mani da leonardo proprio il titolo in prendendo spunto da questa serie televisiva che probabilmente tanti avranno visto comunque che un po sulla bocca di tutti proprio su leonardo che è uscita sulla rai rai play e che ha sollevato un sacco di perplessità perché moltissime persone hanno proprio evidenziato che la storia raccontata di leonardo non corrisponde a quella normalmente conosciuta o studiata a scuola per cui diciamo che visto il dibattito in atto mi sembra la cosa più divertente carina e anche pregnante poterne parlare proprio con riccardo riccardo magnani eccolo qua aspettate che arriva ciao riccardo ciao ciao leonora ciao a tutti eccoci qua nuovamente insieme questa sera parliamo proprio della tua area di diciamo specializzazione il tuo cavallo di battaglia perché mi sembra che tutti sia approcciato al rinascimento e a leonardo in maniera totalizzante per tanto tempo sbaglio allora sì per tantissimo nel senso che oramai sono 14 15 anni e faccio solo questo abbandonato la mia precedente attività di economista e oggi quello faccio addirittura in maniera eccessiva qualcuno mi critica nel senso che poi dicono che voglio fare il tuttologo per cui parlo di leonardo parlo di storia parlo di america e parlo di musica e quindi voglio mettere il becco un po su tutto quanto il problema è che parlare di leonardo e di rinascimento vuol dire conoscere gli sviluppi geografici politici sociali dell'epoca e vuol dire conoscere quello che era l'intendimento nei riguardi della musica che è completamente diverso da quello strumentale non abbiamo già in parte anticipato quindi è una necessità nel senso che non puoi conoscere leonardo se non affronti tutto questo e non puoi conoscere il rinascimento se non affronti tutto il resto beh ma perché è tutto collegato cioè noi abbiamo un po l'abitudine o comunque è stato insegnato a scorporare un po' tutto eh tutte le materie risultano sempre staccate e chi si specializza in qualcosa perde completamente lo sguardo d'insieme ma anche a livello storico è così e in effetti non è molto sensato proprio perché i collegamenti ci sono e sono quelli che ci aiutano anche a comprendere per cui è assolutamente storicamente così no perché eh i goliardi che poi erano quelli che venivano mandati in giro un po' per tutta Europa a studiare nelle università e monasteri si occupavano proprio di tutto quanto e sin dall'antichità eh i coloro che approcciavano la conoscenza erano astronomi matematici cartografi proprio perché musicisti proprio perché è una cosa è correlata all'altra senza andare per forza di cose nella descrizione del quadrivio del trivio e quindi raccontare quello che poi è l'essenza prima dell'universo però è un dato oggettivo cioè chi indaga la conoscenza non può non farlo intrecciando alcune materie che sono tra di loro collegate ehm quindi che mi criticano pure tanto io sono impermeabile vabbè ma le critiche in quest'epoca ci sono sempre comunque un po' dappertutto quindi senti ma quanta gente ti ha chiesto cosa ne pensavi di questo famoso questa famosa serie su Leonardo? Troppi troppi al punto tale che mi sono turato il naso fin quando non è finita e poi appunto esasperato e visto che è finita l'altro giorno ho detto vabbè mettiamo un punto tutta la situazione in maniera tale che ehm quello che è un male perché poi di fatto è stato un male almeno produca qualcosa di costruttivo e possa essere lo spunto per così voltare pagina no? Assolutamente. Però comunque veramente troppi cioè sapendo che io studio Leonardo tutti mi scrivono mi dice cosa pensi? Ah ha detto quella cosa lì ma è vero che? Quindi è diventata una cosa quasi ossessiva. Beh ma tanti hanno messo in discussione proprio rispetto alle informazioni eh studiate a scuola quelle solite no? Mi sembra che le le critiche maggiori le abbiano fatte in questi termini. Allora le critiche maggiori le hanno fatte in tantissimi termini eh anche persone apparentemente qualificate a dare un giudizio eh coerente nel senso che eh la cosa più eh divertente che ho trovato in tutta la faccenda è che si sia criticato eh un prodotto che è dichiaratamente una fiction termine non a caso e quindi una finzione eh cinematografica per approfittare dell'appile del fatto che Leonardo è comunque un attrattore eh sul pubblico un po' come è stata fatta eh negli anni passati con i medici e si sono eh mischiate tutta una serie di informazioni relative a Leonardo random proprio totalmente random eh e si è fatto questo prodotto di fantasia completamente di fantasia eh che però ripeto nella sua manifestazione è diventata ridicola per il fatto che eh ci sono state delle critiche che sono state rivolte allo sceneggiato da parte di persone che proponendo la visione accademica dicevano no questo non può essere no quest'altro non può essere ma la stessa visione accademica è completamente mendace e questo poi ne parleremo o ne ho parlato già ampiamente anche nel nel libro eh ultimo uscito quindi eh un po' una sorta di di eh buo che dice cornuto all'asino eh sì diciamo che nell'indagare questa area bisogna andare a togliere anche un po' di informazioni precostituite che fanno parte della cultura ufficiale che pur non essendo rappresentate dallo sceneggiato comunque non sono altrettanto vere nello stesso modo no perché perché c'è un allora c'è un parecchi millenni di rivisitazioni storiche che sono fatte eh in forma eh propagandistica questo si sa non si scopre niente di nuovo però soprattutto nello sviluppo del rinascimento e eh dell'arte che ne è conseguita c'è stato un intervento molto forte eh da parte dell'ambito cattolico che si è visto minacciato dalla dallo sviluppo delle della cultura neoplatonica arrivata attraverso il concilio di Firenze attraverso i bizantini quindi una rivisitazione dei testi Greci, Platone, Tolomeo eccetera eccetera quindi questa eh minaccia vissuta dall'ambito cattolico in termini culturali ha fatto sì che si determinassero tutta una serie di eh Cassazioni su alcune conoscenze che venivano sviluppate all'epoca ma che poi è entrato nel eh nella quotidianità di ognuno di noi cioè il riferimento cattolico è diventato un riferimento non solo culturale ma comportamentale ehm di concetto di metodo di logica e in questo tutte le letture che oggi facciamo sono fortemente condizionate da quel periodo e da quanto in quel periodo si è voluto eh intervenire. Quindi non solo l'evoluzione storica la conoscenza dei viaggi nel nuovo continente di questo ne abbiamo già parlato ma soprattutto eh ripeto la lettura che si fa eh in termini sia biografici che culturali di tutto quel periodo artistico e storico quindi personaggi come eh Leonardo Botticelli, Ghirlandaio, lo stesso Raffaello anche se in maniera molto più eh mitigata hanno trasmesso attraverso le loro opere quelle conoscenze pagane perché di fatto di questo si trattava che attingevano l'antico mondo greco eh in barba a quelli che erano i tribunali dell'inquisizione dell'epoca. Oggi come oggi però la critica storica dell'arte continua a dare delle letture che sono fortemente influenzate da quel riflesso cattolico che tutto eh permea e eh condizioni. Guarda c'è una cosa che io riporto sempre che eh a me nella mia ignoranza eh mi ha sempre colpito no? Il fatto che l'index librorum proibitorum che è stato creato nel mille cinquecentosessantasei, sessantasette da Pio Quinto che poi interviene fortemente sulla biologia di eh biografia scusate di Leonardo perché cassa quello che Vasari aveva scritto inizialmente eh è rimasto inalterato fino a millenovecentosessantasei e quindi ci sono tutta una serie di eh autori, poeti eh che venivano cassati proprio perché venivano eh così fatti rientrare in questa censura eh papale che trova un'aberrazione totale. Quindi eh lo stesso Moravia, Duma padre, Duma figlio, tantissimi personaggi che fanno parte della nostra Voltaire, della nostra formazione culturale sono finiti in quella gogna culturale che è stata voluta dalla Chiesa. Non è che adesso è tanto diverso comunque, è con la censura applicata ai social, a internet, a tutta una serie di informazioni che vengono stravolte o messe all'indice in altro modo. Non c'è lo stesso indice però l'approccio non è cambiato così tanto. No, non è cambiato. Quello che è cambiato eh fortemente è il livello medio di tutta la discussione. Quindi tutto è caduto verso il basso eh e tutto è diventato una speculazione finalizzata poi al potere a soldo. Mentre prima era una eh diatriba legata a un così un primato culturale. Quindi comunque c'era un livello qualitativo, etico, di valori eh che faceva da sottofondo un po' tutta questa battaglia eh culturale. Oggi tutto è finalizzato a potere soldo e quindi eh non gliene frega più niente a nessuno eh è una guerra a ribasso eh che oramai abbiamo iniziato a scavare. Sì stiamo scavando direi di sì. Va bene dai però noi abbiamo te e siamo fortunati che puoi darci un'altra visione di Leonardo perché molti si incazzeranno da questa affermazione ma sei probabilmente una delle persone che conosce meglio Leonardo. Allora io sono la persona che conosce meglio Leonardo di tutti. Così mi faccio già i nemici prima ancora di iniziare. Eh molti si incazzeranno perché troveranno talmente evidenti le cose che racconteremo eh da mettere in discussione non tanto eh quello che le persone fino adesso hanno conosciuto o hanno sviluppato studiando e interessandosi ma per il fatto di averci creduto eh perché come ti dicevo prima fuori onda la cosa importante non è tanto quello che si abbraccia ma il modo eh di criticità con cui le cose vengono abbracciate perché tante volte si tende a negare un assunto proponendo una tesi che è a sua volta mendace o basata su elementi mendaci e proprio su questo io vorrei iniziare a raccontare questa sera la nostra chiacchierata per arrivare poi a sviluppare una tesi finale eh quindi non parleremo nello specifico di Leonardo perché dovremmo parlare anni mesi eh e non finiremmo più però ci sono tutta una serie di cose che ho voluto mettervi in fila per far capire come di fatto sia importante a maggior ragione oggi come oggi in cui la guerra è diventata ehm proprio senza nessun tipo di ritegno eh come sia importante riuscire a districarsi tra le varie menzogne che vengono proposte anche dal mondo accademico anche da quelli che apparentemente sono dei riferimenti culturali ma come ho detto sono dei riferimenti culturali ehm drogati nel senso che sono quei riferimenti che la cultura cattolica ha accettato eh e quindi sono costruiti su una parzialità di riferimento realistico c'è ben un po' credo che le perplessità sul mondo accademico scusate sul mondo accademico sul mio canale siano state riportate parecchie volte e quindi non si sconvolge quasi più nessuno ecco però è sempre sconvolgente vedere fino a che punto può arrivare la manipolazione delle informazioni questo sì perché per tanto che lo sappiamo quando impattiamo su argomenti eh parti della storia che abbiamo studiato a scuola con cui ci siamo confrontati su libri di testo eccetera e ci rendiamo conto di quanto le cose siano in realtà diverse ovviamente piuttosto spiazzante questo assolutamente sì è spiazzante però come sempre la colpa è sempre nostra nel senso che è vero ci scrivono tante cose e se imparassimo a sviluppare uno spirito critico chiaramente non lo si matura dall'oggi al domani però giorno dopo giorno ci sarebbero alcune situazioni che non troverebbero nemmeno la porta d'ingresso per accedere alla nostra testa volentieri allora iniziamo ti interrogerò un po così teniamo viva la tua attenzione interroghiamo anche il pubblico così teniamo io non vedo le chat le vedi tu perché sennò poi mi distraggio vedo 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 io vedo io allora vuoi che metta eccoci qua ecco allora perfetto partiamo da qua quindi serie su leonardo serie che ha scatenato le ire un po di tutti quanti risentimenti tutti quanti anche se qualche giudizio positivo c'è stato perché giustamente la rai o la produzione che sta dietro questa serie ha fatto leva sul fatto che ci fossero alcuni attori attrici di nome oppure piacenti per attirare un pubblico noi quindi comunque c'è chi ha gradito lo spettacolo senza nessun tipo di problemi chiaramente io non voglio parlare della serie perché come ho detto è una serie dichiaratamente di fantasia con ricostruzioni che sono totalmente di fantasia ma quello su cui voglio porre l'attenzione come le critiche che sono state rivolte a questa fiction sono loro volta figlie di una conoscenza che è totalmente mendace perché perché la biografia di leonardo e soprattutto il suo lascito culturale sono completamente diverso da come c'è stato raccontato fin oggi per farlo rientrare in quel retaggio gradito al mondo culturale cattolico e quindi permettere che poi venga diluito nel nel tempo e nella sostanza quindi tutto quello che racconteremo è per arrivare a sviluppare quella tesi per cui qualunque cosa voi valutate attenzione a come la valutate cioè non affidatevi esclusivamente a chi dice una determinata cosa o dove sta scritta questa determinata cosa che poi sono i due fondamenti primi dei due monoteismi principali il mondo cattolico e il mondo ebraico ma come dicevano gli antichi greci cercate di trovare una dimostrazione una giustificazione logica e documentale a quello che vi viene opposto allora questo è il leonardo televisivo un mix di banderas e padre ralfa ok bellissimo bellissimo già vi piace un mix di bandera e c'è subito un problema di ok perché dico questo perché quantomeno nella riproposizione del del modo di vestire di leonardo si poteva seguire una che una di quelle che era la sua caratteristica principale cioè la natura non solo la bellezza del corpo che molto bene gli concedete volse dotarlo ma di molte rare virtù volse ancora farlo maestro era di bella persona proporzionato graziata e bello aspetto portava un pitocco rosato corto fino al ginocchio che all'ero si usavano i vestiti lunghi aveva sino al mezzo in petto una bella capellaia anellata ben composta quindi leonardo era solito e riconosciuto vestirsi con questo pitocco rosato qui è come lo rappresenta bramante in una riproposizione che poi a riproposizione tutto quello che avviene nell'universo c'è il il confronto fra il filosofo che piange e il filosofo che ride eraclito e democrito che sono quel riferimento l'energia maschile femminile ascendente discendente il carattere saturnino gioviale di cui abbiamo parlato la volta scorsa una delle volte scorse e che sottende un po a tutto quello che è il movimento dell'universo quindi già nell'outfit c'è stata un'attenzione minima e questo dichiaratamente esprime quanto la fiction abbia preso le distanze un po da da quello che è stato il la vita reale di leonardo qui abbiamo giannini e l'attrice di cui non ricordo nemmeno il nome tanto interessato sono l'argomento che rappresentano andrea del verrocchio e caterina cremona caterina cremona è un personaggio ripeto nuovamente dichiaratamente di fantasia però cosa succede nel comporre questa scenografia di fantasia gli sceneggiatori hanno preso tutto quello che è legato a leonardo quindi caterina che si dice essere stata la madre cremona che leonardo cita un paio di volte nei suoi codici il bembo come vedremo più tardi e hanno fatto un miscuglione incredibile come quando giochi a alla tombola natale tiri fuori i numeri e in base ai numeri che vengono fuori li butti in giro e questo è un po quello che è successo quindi hanno le informazioni tasselli e li hanno composti un po a caso creandoci una storia che li tenesse insieme che è un po quello che succede nell'arte di oggi cioè prendi tutto quello che ti capita lo metti insieme tanto oramai l'arte non è più espressiva di un qualcosa attinente al reale ma è una pulsione di quello che ti capita al momento quindi tutto quello che c'è va bene quindi andrea verrocchio andrea verrocchio fatto da giannini un giannini vecchio no e lo vediamo allora andrea verrocchio nasce nel 1435 37 non si sa tanto era famoso che nessuno sa l'esatta data di nascita inizia a approcciare il mondo della pittura nel 1465 quindi all'età grossomodo di 30 anni 28 30 anni nell'uomo di prato come aiuto di filippo lippi 1465 leonardo nella ricostruzione biografica che viene fatta va a scuola da verrocchio su indicazione del padre piero piero notaio in vinci all'età di 10 14 anni ora posto che leonardo sia nato ieri 15 aprile del 1452 e così non è secondo questa ricostruzione leonardo sarebbe stato a scuola del verrocchio tra il 1462 1466 cosa che ripeto non è uno perché verrocchio a quell'epoca non era nemmeno forse un pittore e immaginiamoci come poteva essere un maestro di bottega e in secondo luogo cozza completamente con quello che è il ruolo di giannini cioè all'epoca verrocchio avrebbe dovuto avere circa 30 anni qua giannini ce ne ha più di 70 e già non funziona ma ripeto è dichiaratamente una fiction e quindi è stupido dire allora verrocchio vecchio non c'entra niente perché perché vuol dire dare credito a questa finzione più interessante invece è ruolo di caterina cremona che sarebbe nella finzione sempre colei la quale spinge leonardo andare a scuola del verrocchio quindi leonardo incontra caterina a cremona firenze si mostra interessata la sua storia perché una donna di mondo piena di cicatrici leonardo c'è questo suo lato sentimentale che esce e viene seduto idealmente da da questa donna che la spinge a andare a imparare a dipingere dal verrocchio leonardo viene cacciato una prima volta perché ha questo suo carattere instabile irascibile caterina lo convince a ritornare convince il verrocchio a riprenderlo e poi se ne va e se ne va a milano allora l'inizio di questo sceneggiato è con leonardo che viene accusato di aver avvelenato questa caterina la cremona ok la produzione dice chiaramente che caterina verona è un personaggio di fantasia ok ed è un personaggio di fantasia che come ho detto mette insieme nuovamente tutta una serie di informazioni la madre cremona che viene citata da leonardo solo un paio di volte relativamente a un matematico e alle sue opere che è leonardo da cremona appunto e viene citata soncino che è una una cittadina vicino a cremona in cui c'era un castello degli sforza e quindi nuovamente fanno questo questo mischione incredibile però la cosa divertente qual è che a un certo punto uno dei biografi di leonardo ottocentesco che giuseppe bossi che ha fatto una uno studio approfonditissimo sull'ultima cena poi si riferiscono un po tutti quanti gli studiosi pubblica una serie di scritti in cui dice che in base a una fonte autorevole che gli è stata comunicata leonardo provasse un piacere per una certa cortigiana di nome cremona ed è un'invenzione totale che sconvolge un po tutti quanti perché ma come leonardo era che è infatti nello sceneggiato ci sono le scene omosessuali anche molto palesi plateali però mette un po in discussione questa cosa no il problema è che leonardo nei suoi codici non cita mai 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 una cortigiana di nome cremona questa cosa è nata solo su una voce autorevole riportata da questo bossi ma che non trova conferma da nessuna parte da qui si sviluppa tutta una teoria di uno studioso inglese anche abbastanza quotato che dice che praticamente siccome tutte le modelle erano prostitute all'epoca le prendeva caravaggio le prendevano un po tutti quanti leonardo che era uno che era avvezzo a sperimentare tutto quello che faceva avrebbe sperimentato questi sentimenti amorosi con tutte le modelle con cui andava e quindi c'è questo luogo comune per cui le modelle le modelle erano tutte troie leonardo se le faceva tutti quindi lisa che era un troione quindi ginevra de benci eccetera eccetera anche questa cosa l'abbiamo ereditata anche adesso purtroppo allora cosa succede caterina cremona dopo avere spinto leonardo andare a bottega del verrocchio vecchio quindi sarà stato il nono del verrocchio nota che leonardo e verrocchio sono pressoché coetanei perché leonardo in realtà nasce dieci anni prima cioè il 4 luglio del 1442 e tutti questi riferimenti li potete trovare poi in se si ne pa leonardo che è il libro che ho scritto a maggio e dicevo dopo avere spinto leonardo andare a scuola del verrocchio se ne va a milano dove ha una storia d'amore chiaramente come amante perché non poteva essere diversamente perché zoccola e zoccola rimane e va a a milano come amante dell'ambasciatore bernardo bembo allora bernardo bembo è un altro di quegli ingredienti che gli sceneggiatori hanno preso e hanno buttato dentro così perché perché bernardo bembo è il modo in cui attraverso una ricostruzione completamente mendace viene riconosciuto il ritratto di ginevra de benci perché perché dietro il ritratto c'è un cartiglio che si vuole essere il cartiglio di bernardo bembo che si dice avesse avuto una storia con ginevra de benci e quindi quella era prova per cui la donna ritratta da leonardo è ginevra de benci cosa che io smentisco e anche maniera documentata però la cosa divertente qual è che la scena che viene messa nella fiction di fantasia non controlla nemmeno come per il pitocco rosato le informazioni che vengono date quindi si vede questo giovane leonardo dipingere e maneggiare questo dipinto di ginevra de benci che è tagliato cioè questo è il dipinto che il giovane leonardo sta maneggiando nello sceneggiato dov'è il problema il problema è che il dipinto è così perché nel 1506 un papa nemico di giovanni secondo ventivoglio che ha un suo ruolo importante in questo dipinto taglia parte del quadro o brucia parte del quadro quindi il quadro noi oggi lo vediamo in questa forma perché è stato tagliato quindi mostrare leonardo col quadro appena fatto già tagliato è una cosa che non sta né in cielo né in terra però ovviamente nessuno dal futuro l'aveva fatto arrivare dal futuro quando era stato facciato e quindi oppure l'ha preso su ebay e l'ha spacciato perso quindi quello che il mondo conosce riconosce come il ritratto di ginevra de benci è in realtà un dipinto che rimanda a un matrimonio sulla destra vediamo lo stesso impianto iconografico fatto da lorenzo di credi di una donna che ha in mano un anello quindi è una donna che si sta per sposare allora vi ho detto prima che il dipinto è tagliato se voi guardate sulla destra la parte relativa al cartiglio che rimanderebbe al bembo in realtà è un cartiglio che rimanda a una sforza perché il la palma è il ramo d'ulivo rimandano agli sforza e mezzo c'è un ginepro quindi è una ginevra sforza però chiaramente si vede una parte di scudo completamente mancante quindi quel matrimonio e quel dipinto che leonardo fa è il dipinto in occasione di un matrimonio che realmente ginevra benci ha avuto con giovanni secondo ventivoglio che era amico fraterno di leonardo e che era fortemente osteggiato dal papa che appunto quando vede il suo dipinto nella biblioteca nella pinacoteca di pesaro decide di omettere la parte relativa al cartiglio di giovanni secondo ventivoglio il dipinto come vi ho fatto vedere prima si completa con quello studio di mani che leonardo fa e che è conservato a windsor che rimanda direttamente il dipinto l'impianto iconografico completo in questo caso a la dama col mazzolino che è una statua composta da verrocchio in cui il mazzolino non è un mazzolino di fiori qualunque ma sono fiori d'arancio quindi nuovamente torna il discorso del matrimonio e quindi nuovamente torna la lettura corretta che viene fatta da me e non può essere diversamente no la lettura corretta che viene fatta circa l'identità della donna ritratta in questo importantissimo è riconoscere il paesaggio che sta dietro il dipinto perché a differenza di come dice albertino angela il sex symbol della divulgazione italiana stai trovando delle chicche albertino angelo della divulgazione meno segno e me la rivendo il mio cavallo di battaglia allora il paesaggio retrostante è il la valle del foglia nei pressi della rocca di sassocorvaro dove appunto ginevra sforza è cresciuta e quindi c'è tutta una serie di elementi che poi nel libro chiaramente descrive in maniera puntuale perché poi qualcuno dice cavolo nei video tu non fai dei riferimenti sono tutte teorie che ti inventi ma non c'è niente di documentato è chiaro che non posso produrre per ogni cosa una documentazione ampia in queste narrazioni perché altrimenti diventerebbero di 50 ore ciascune non del tempo necessario quindi chi mi vuole criticare almeno vada approfondire allora questa cosa non succede solo con il ritratto di ginevra dei benci che non è ginevra dei benci ma è ginevra sforza succede un po con tutte le opere leonardo quindi con estrema nonchalance siamo usciti dalla fiction ed entriamo in un'altra fiction che cioè quella delle letture che il mondo accademico fa delle opere di leonardo abbiamo appena visto l'esempio di ginevra dei benci che non è ginevra dei benci il dipinto è conservato alla national gallery di washington a cui ho scritto ma chiaramente non si sono nemmeno degnati di rispondermi e questo è lei dal cigno lei dal cigno che è un dipinto famoso citato da vasari citato da paolo dal pozzo citate da paolo lomazzo citato da cassiano del pozzo nel 1625 che lo vede in francia come paolo lomazzo e è un dipinto che leonardo avrebbe fatto ma di cui si è perduto completamente ogni traccia tenete presente che tra quando leonardo ha vissuto e oggi ci sono stati allora tanto venenziale cinque secoli ma sono stati guerre epidemie saccheggi censure da parte del del mondo cattolico quindi è ovvio che tanto materiale sia andato perduto o tanto è stato sottratto e non solo bruciato come avveniva in in piazza per volere di savonarola firenze ma anche perché è conservato in qualche deposito privato magari a roma chissà oltre tever però il dipinto originale di leonardo come detto non c'è l'impianto iconografico è un impianto vecchissimo a dimostrare come l'arte rinascimentale non nasce dall'oggi al domani ma è la riproposizione a sua volta di tutta quell'arte che gli antichi greci producevano quindi il rinascimento nasce non solo culturalmente ma anche artisticamente sul sullo slancio che l'antico mondo greco aveva suggerito agli artisti ai letterati del di quel periodo questa è una redalcinio che è stata trovata un paio di anni fa se non sbaglio a pompei di leonardo o meglio a ricordare quella che è stata la proposizione di leonardo abbiamo questo dipinto che è conservato agli uffizi di firenze che è di dell'allievo di leonardo cioè francesco melzi dipinto raccontato da critici dell'epoca come un dipinto bellissimo eccetera eccetera il problema qual è che l'eda è l'eda ma il cigno non è un cigno e quindi è l'eda è un'oca è vero perché il cigno non ha i denti questo ai denti è palesemente un'oca per la colorazione per le sfumature del becco eccetera eccetera e allora nuovamente cosa succede se sbagliato melzi che gli ha fatto i denti non sapendo che il cigno non aveva i denti no problema è che ci troviamo davanti a un animale chimera cioè metà cigno nella parte bassa e metà oca e andando a ritroso nel mito di l'eda l'eda viene inseguita da zeus per scappare da zeus si trasforma in cigno e zeus si trasforma in oca per poterla così concepire quindi l'animale chimera cos'è è nuovamente quella riproposizione fra elemento maschile elemento femminile che abbiamo visto la volta scorsa relativamente alle vibrazioni dell'universo e l'oca quindi rappresenta simbolicamente una metamorfosi del cigno nella sua eccezione lunare e femminile dove invece il cigno è la rappresentazione di luce maschile solare quindi quello che apparentemente è un errore pittorico in realtà è un contenuto profondamente attentivo si esoterico un termine che a me piace sempre molto poco però è un ripeto che attinge sì perché ha un'accezione negativa normalmente quindi bisogna quasi un po scusarsi per dire sai questa è una lettura esoterica però diciamolo sottovoce perché è una cosa non è così cioè questo dipinto attinge fortemente profondamente a quel mondo antico quindi continuare a raccontarlo come l'eda il cigno e fare un torto innanzitutto a chi l'ha fatto a chi sta ascoltando perché gli stiamo raccontando una storiella che è completamente diversa e qui si apre uno scenario ulteriore cioè quanto chi fa divulgazione pseudo scientifica in questo caso lo faccia coscientemente oppure oramai sia talmente incancrenito in nei meccanismi di questo racconto che è auto alimentante sì per cui non riesce più nemmeno a capire a riconoscere cosa distingua un cigno da un'oca e soprattutto in termini sostanziali quale sia l'importanza di rappresentare un'oca piuttosto che un cigno e questo è un po figlio di quella mancanza di qualità che si sta impadronendo un po di tutti noi no perché quello che vediamo lo assumiamo tanti riferimenti è si vende lo guarda qualcuno allora facciamo pubblicità se lo guarda tanta gente quindi questo è quello che contano non interessa più niente nessuno quello che poi c'è alle spalle di tutto questo e questa rappresentazione di le del cigno poi appunto come dicevo è la rappresentazione della dualità di cui si compone la gioconda stessa quindi l'elemento maschile che si fonda con l'elemento femminile e ricompone quella dualità di cui l'universo si si compone e siamo a due questo è la bella ferroniere bella ferroniere è stato apposto probabilmente in un secondo tempo dai francesi a vedere come è stato scritto leonardo da vinci che vogliono essere leonardo un loro eh così prodotto nazionale manco sanno scriverci il nome però questo è un problema dei francesi pazzesco non lo sapevo che lo scrivessero così anche quando c'è anche ambuase è sempre scritto così allora questa è la famosa dama con ermellino allora posto il fatto che io dubito che sia di leonardo posto che qualcuno sostiene che è stata fatta a immagine e somiglianza di cecilia gallerani cioè l'amante giovanissima di ludovico il mor posto che quel cordino che tiene sulla testa che è una moda dell'epoca e tante volte ha anche una pietra preziosa al centro questo richiama un po' quello che hai tu in mezzo agli occhi è un richiamo evidente al terzo occhio quindi alla pineale quindi al sesto chakra eccetera eccetera ma la cosa divertente qual è come ho detto a mio modo di vedere non è leonardo ma è di de pedris amico di leonardo che lo ospita nella sua prima esperienza milanese o meglio nella prima esperienza milanese riconosciuta dal mondo accademico perché leonardo arriva a milano molto prima ma la questione è un'altra l'ermellino non è un ermellino ma è un furetto domestico al vino c'è sempre un problema con gli animali qua eh cioè c'è un'ignoranza zoologica incredibile e sì allora l'uso del del furetto perché il furetto è più facile da domesticare non esiste in natura libero quindi più facile che la modella potesse zoccola perché abbiamo detto che le modelle erano tutte zoccola potesse tenere in mano un ermellino un furetto anziché un ermellino però ci sono tutta una serie di studi legati alla colorazione alle dimensioni delle orecchie eccetera eccetera che dichiarano apertamente che questo è un furetto quindi chiamiamola dalla col furetto cioè cosa cambia tanto però quantomeno non cadiamo in un errore del genere quindi è divertente come tutte queste letture che sfuggono anche a una lettura ortodossa del mondo accademico compiacente il mondo cattolico siano fortemente fuorvianti rispetto a quello che poi in realtà leonardo ha fatto quindi criticare l'operato di quella fiction nel modo in cui è stato fatto solo perché non è realistica rispetto alla vita di leonardo ci andrà il cauti nel senso che prima imparate cose leonardo e poi potete criticare quello che ha fatto questo esercizio che abbiamo fatto fino adesso possiamo farlo per tutte le opere di leonardo non solo possiamo farlo per la maggior parte delle opere del rinascimento e questo è un mio sogno prima o poi avere aperti gli uffizi e io fare un racconto dagli uffizi delle varie opere che sono esposti quindi nessuno mai si è accorto che la gioconda che abbiamo detto è una rappresentazione di leonardo ha un una patologia evidente che è un ganglio astrogeno che lo porterà a essere paralizzato nella sua parte finale della vita e lo stesso ganglio astrogeno lo troviamo nella mano destra dell'uomo di vitruvio ad esempio idem per un oxantelasma che è una piccola formazione di grasso dovuta a un eccesso di colesterolo che la gioconda all'interno dell'occhio che caratterizza tutti i ritratti di leonardo in cui leonardo è ovviamente riconoscibile e l'oxantelasma è evidente ora rappresentante rappresentare una modella posto che la gioconda fosse una modella femminile reale con l'oxantelasma quando in teoria dovrebbe essere un abbellimento è un accanimento al limite poteva fargli una muccia un neo ma chiaramente evidenzare l'oxantelasma non è un atto di cortesia a meno che non volesse rappresentare qualcuno che l'oxantelasma ce l'aveva sul serio posto che la gioconda è la gioconda cioè gioviale quindi quel suo ghigno famoso è un ghigno celestiale che esprime come dice vasari la il carattere spirituale della donna ritratta ma non è mona lisa perché in base alla testimonianza fatta da antonio de beatis che era un canonico che ha accompagnato luigi d'arragona a trovare leonardo a mboise poco prima che morisse racconta i quadri che sono stati acquistati dal re e tra questi mona lisa non c'è ma c'è la signora di lombardia quindi quello che il mondo riconosce esposto a louvre come la mona lisa è in realtà la signora di lombardia quindi sono riusciti a ciccare o volutamente a modificare anche l'opera più famosa in assoluto di leonardo ma perché perché chiaramente non possono dare come interpretazione quella del rebis perché il rebis è una cosa cattiva malvagia perché esprime qualcosa che va contro il fondamento cattolico quando poi il cristo quando poi il cristo stesso no è una rappresentazione del rebis a proposito del rebis a nessuno mai è venuto il la curiosità sai i bambini piccoli fanno danni e toccano sempre tutto no e sono un po come un bambino piccolo a nessuno mai è venuto l'idea di girare l'uomo di vitruvio e se voi girate l'uomo di vitruvio i due pettorali sono due putti che si baciano due bambini a rappresentare la dualità esatto bellissimi di questo abbiamo già parlato parlando di eldorado paetiti la sfera armillare col triangolo estivo che è espressivo di dove l'irraggiamento cosmico entra la nostra gara nostro sistema solare sull'ultima cena potremmo stare ore 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 a parlarne e non è il caso sul l'angelo incarnato sul perché nei dipinti del rinascimento i soggetti ritratti si battono sempre una mano sul petto e con l'altra indicano il cielo perché qua come esprime anche leonardo si riteneva si trovasse il sito spiritualis in realtà è in corrispondenza del quarto chakra viando del timo anche questo non lo si può raccontare figurati parlare di chakra in un'opera che parla di elementi sacri ma di cose parlando quindi cosa succede un attimo perché è saltata la linea ma di cosa stai parlando non so se hai detto qualcos'altro di importante perché ho fatto una pausa di riflessione detto quindi cosa succede ok succede che un pochino aspetta sì sì tranquillo tranquillo adesso ti interrogo no no non me cosa succede passando per un percorso non necessario che quello di questa fiction ma che si è reso necessario perché tutti mi hanno chiamato in causa chiedendomi cosa ne pensassi ho deciso di prendere spunto proprio facendovi vedere alcune cose facendovi riflettere su questa cosa cioè prima di esprimere un giudizio di merito su qualcosa abbiate l'accortezza di avere una piena contezza di quello che state valutando e giudicando questa cosa si riassume in una frase di leonardo che a me piace sempre citare che è l'acquisto di qualunque cognizione sempre utile all'intelletto perché potrà scacciare da sé le cose inutili e riservare le buone quindi anche una fiction completamente astrusa fatta da quello che una volta era la televisione di riferimento che aiutava il popolo italiano a avere un livello culturale un po più elevato di quello che abbiamo oggi può essere utile se ci aiuta a comprendere qualcosa di più profondo come stiamo facendo questa sera e leonardo chiosa perché nessuna cosa si può amare né odiare se prima non si ha cognizione di quella questo dovrebbe essere un insegnamento totalitario cioè prima di esprimere un giudizio su qualcosa prima per prima di dare un'adesione o di negare la propria adesione a qualcosa bisogna essere informati bisogna conoscere quella cosa ma non per sentito dire come ha fatto bossi nei confronti di della prostituta no della cortigiana di nome cremona cioè sviluppando uno spirito critico non accettando quello che viene detto solo perché l'ha detto albertino angela o su amichetto alessandro barbero ma perché hanno fondamento documentale solido sostenibile e quindi cosa succede tutta e quando dico tutta sottolineo tutta la biografia e la parte contenutistica delle opere di leonardo è totalmente falsata volutamente falsata dolosamente falsata perché quando vasari ha scritto la vita di leonardo e vasari scrivendo il vite dei più grandi architettori pittori scultori a posto le basi per le biografie di quasi tutti gli artisti del rinascimento l'ha fatto rivedendo una sua prima opera sempre le vite fatta 18 anni prima cioè nel 1550 in cui c'erano scritte delle cose completamente diverse poi sulla seconda versione è intervenuto pio quinto quello dell'index liberorum proibitorum e ha detto qua scrivi così qua scrivi così qua scrivi così e non l'ha fatto da solo l'ha fatto con cosimo primo cosimo primo è quello che trasferisce la famiglia dei medici a palazzo vecchio da palazzo medici riccardi quindi l'immagine che oggi abbiamo dei medici di firenze legata a palazzo vecchio è l'immagine del degrado culturale di firenze che viene dopo savonarola e viene dopo che i medici discendenti da cosimo il vecchio sono stati estromessi da firenze quindi è una ricostruzione totalmente mendacea allora parlavo di vasari quando è nato leonardo ti chiedo l'hai detto tu il 4 luglio allora ufficialmente leonardo nasce il 15 aprile 1452 e ieri tutti perché poi c'è questa usanza no sui social a scrivere tanti auguri l'altro no io no ok quindi leonardo nasce il 4 luglio no il 15 aprile 1452 ma in base a tutti i biografi di leonardo leonardo muore all'età in un'età compresa fra i 72 e 75 anni allora 1519 meno 72 75 conta sul naso siamo tra il 43 e 44 45 almeno almeno otto anni prima sai quando viene scoperta la data del 15 aprile 1452 no non lo so nel 1746 quelli che ha letto il libro sanno perché tutto scritto lì 1746 cioè per tre secoli il mondo intero ha pensato che leonardo da vinci più grande genio della storia riconosciuto tra l'altro da tutti i suoi contemporanei perché esistono ritratti di leonardo ovunque allora dicevo per tre secoli tutti hanno pensato che fosse nato all'inizio del quarto decennio del quattrocento poi nel 1746 arriva un tizio che scopre un cartiglio nel libro notarile del nonno di questo notaio serpiero invinci sull'ultima pagina e allora per il mondo leonardo nasce il 15 aprile 1442 di punto in bianco però tutti quelli che erano a ridosso della sua vita e ripeto tutti conoscevano leonardo dopo vi dico anche perché anzi subito quasi han pensato che leonardo fosse morto all'età di 75 anni quindi non tanto quello ma era nato nel quarto decennio del secolo quando dico che tutti lo conoscevano esiste un numero infinito di ritratti leonardo quello che vedete mixa la sanguigna di torino famosissima con la statua del giovanni battista che si trovava sul battistero di firenze cioè il ruolo il luogo più importante della firenze dell'epoca definita da michelangelo le porte del paradiso no perché era il lo spazio che stava fra il battistero e il duomo questa statua che la predicazione a giovanni battista è fatta da giovanni rustici amico di leonardo che l'ospiterà a firenze nel 1508 e ritrae la stessa identica persona quindi non solo l'identità di leonardo era conosciuta ma la sua fino fisionomia lo era tanto che una statua di leonardo era posta sul punto più importante della firenze rinascimentale cioè tutti passavano sotto e facevano l'inchino leonardo un po come quando vai a napoli trovi maradona gigante sul murale abbiamo proprio dissacrato leonardo al massimo facendoci un paragone con maradona ma siamo in termini assoluti la sua parte dell'aspetto così certo 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 e quindi questo era leonardo anche questo l'ho comunicato pochissimo tempo fa è uscito un paio di articoli l'ho comunicato l'assessore sacchi a firenze viene fregato qualcosa qualcuno chi è il padre di leonardo allora ho visto che qualcuno chiedeva se la madre era italiana ho visto solo questa domanda chi è il padre di leonardo vediamo chi è preparato forza forza scrivete in chat vediamo se arriva la risposta nel frattempo si chiedono perché tutto falsato un complotto storico artistico l'abbiamo detto perché per imporre la cultura cattolica si è cambiato ma in realtà per imporre tante cose c'è la stessa lo stesso piero gottoso piero gottoso allora qualcuno che oramai mi conosco giorgio sei un paraculo esatto proprio lui allora perché ti dico chi è il padre di leonardo perché no perché in tutte le biografie in tutte le ricostruzioni qualunque narrazione su leonardo voi possiate ascoltare vi dicono che il notaio serpiero in vinci è il padre di leonardo da vinci tutti ve lo dico però se noi andiamo a vedere le fonti e benedette fonti che poi sono fonti quando dicono qualcosa a nostro favore quando dicono qualcosa a nostro sfavore non sono più fonti ma sono delle cazzate campate per ali allora nell'anonimo gardiano che anticipa di una decina d'anni le vite del basari si legge e morse presso ambosia città di fra no 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 aspetta mi sono perso chi è il padre ecco qua era quella l'età allora nell'anonimo gardiano c'è scritto leonardo da vinci cittadino fiorentino quantunque non fosse legittimo figliore il serpiero da vinci era per madre nato di buon sangue quindi non è figlio legittimo di serpiero il vasari un po più esplicito e dice sempre nella versione del 1550 perché poi quella del 1568 viene cambiata come abbiamo detto adunque mirabile celeste fu leonardo nipote di serpiero da vinci che veramente buonissimo zio e parente gli fu nell'aiutare un giovanese ha ribadito no zio e parente e in più l'ha aiutato in giovanezza perché un padre non aiuta il figlio in giovanezza perché non ce n'è bisogno però lo zio si ha conciossi per via di serpiero suo zio nella fanciullezza latte con andre del verrocchio onde il cartone oggi in fiorenza nella felice casa il magnifico ottaviano dei medici donatogli non ha molto dal zio di leonardo dice sì che serpiero da vinci zio di leonardo finita quest'opera che più non era ricerca né dal vilano né dal suo zio tutti questi riferimenti a serpiero notaio in vinci sono contenuti nel vite di vasari quindi è ripetitivo nel ribadire che il notaio non è il padre di leonardo e la cultura ufficiale cosa fa non lo guarda proprio questo pezzo no 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 non lo cita dice se è sbagliato infatti infatti hanno fatto la revisione grazie al cazzo cioè è arrivato quell'altro gli ha detto dovete scrivere così è un po ve lo dico ve la butto lì come quando scrivete qualcosa su facebook e scrivete oggi ho bevuto latte vaccino e vi mettono a norme anti covid che oppure fate un video su youtube e dite qualcosa di scomodo e via il video sparisce funzionato un po così questo è il vita del 1568 quindi quando noi siamo così lascivi nell'accettare tutta una serie di condizionamenti e di censure che ci vengono propinate giorno dopo giorno dovremmo pensare che queste censure hanno condizionato la nostra intera esistenza magari uno ha anche preso quattro interrogazioni storia dell'arte perché non sapeva queste cose cazzo sono tutte diverse chi ha scoperto colombo è l'america ma non lo so di certo non colombo 4 capito quindi attenzione perché sono delle cose che non sono fine a se stesse cioè questa non è solo e io dico sempre leonardo è un pretesto per comprendere tante altre cose o rinascimento per comprendere tante altre cose in ultima analisi per comprendere l'evoluzione il punto d'arrivo della società di oggi ma per comprendere come il pensiero comune si è formato e questo lo potete capire solo passo dopo passo analizzando tutte queste situazioni c'è stato un bruttissimo articolo forse l'ho già detto anche da te non ricordo ma l'ho già detto anche da altri settimana scorsa o una decina di giorni fa di veneziani che diceva che gli storici non dovrebbero fare revisione storica perché oramai qualche stato è stato dobbiamo interpretare il presente per quello che è e no è troppo comodo così quindi attenzione attenzione bene quello che si fa terza domanda signorina fani aiuto mi dica quando leonardo arriva a milano la data vuoi un giorno no la data l'anno c'era qualcuno prima che suggeriva tanto bene vediamo se c'è ancora qualcuno di preparato io non sono mica così preparata sai poi le date un disastro allora ufficialmente leonardo viene posizionato a milano nel 1482 e arriva a milano scrivendo una lettera al duca ludovico che viene citata come la prima lettera il primo curriculum vitae della storia dove leonardo dice prendete che sono bravo a fare le strutture militari in realtà non l'ha scritta leonardo ma nel 1482 arriva nel 1483 coi fratelli de pedris firma il contratto per la vergine delle rocce ed è l'unica firma autografa esistente di leonardo ne vengono proposte tante altre però l'unica esistente è quella e già questa è una cosa ridicola c'è ridicolo il fatto che ne propongano altre che non c'entra niente addirittura c'era un nell'anno del bicentenario c'era il povero davvero che adesso è morto poverino e che pubblicizzava un qualcosa legato leonardo e dietro di sé aveva la firma di leonardo scritta stampatello che è scritta da un bibliotecario tedesco e che un leonardo non c'entra proprio niente però quando arriva leonardo ufficialmente nell'ottantadue con tutta questa cosa viene mandato da lorenzo il magnifico fino a ludovico il moro a portargli una lira in argento con la forma di cavallo eccetera eccetera e allora nuovamente andiamo a vedere quei documenti che pare che lega solo io perché gli altri non li leggono no sa perché vado sempre indietro allora vasari scrive fu condotto a milano con gran reputazione leonardo al duca francesco il quale molto si dilettava del suono della lira perché suonasse leonardo portò quello strumento che gli aveva fatto di sua mano fabbricato da argento gran parte a ciò che l'armonia fosse con maggior tuba e più suonora di voce leonardo era prima di tutto e soprattutto musicista tanto che prima o poi quando passerà tutta questa storia del perù e quando troverò un tempo per farlo scriverò un libro sulla musica di leonardo su quel benedetto discorso della musica mondana dei 432 etz eccetera eccetera così che la gente prima o poi riesca finalmente a capirlo ma nuovamente in un altro passo sempre nel vite del 550 vasari scrive e tornando col passo addietro leonardo lo tenne dicendo sta parlando di un'opera fatta da leonardo e che il notaio serpiero zio di leonardo prende con sé perché la trova molto bella dice quest'opera serve per quella che l'è fatela pigliatela dunque portatela quindi prenditele fa quel cazzo che vuoi tanto a me non mi interessa l'ho fatta e basta quest'opera viene venduta dal notaio e arriva nuovamente nelle mani di francesco duca di milano venduta agli 300 ducati da mercatanti a cui l'aveva venduta il notaio serpiero quindi cosa succede per due volte leonardo viene collegato al duca francesco a milano fu condotto a milano con gran reputazione leonardo al duca francesco signorina fani quando muore il duca francesco sforza nel 1466 nel 1466 quindi leonardo va a milano prima di quella data decisamente perché se era morto mi sembra difficile nell 82 era morto da 15 anni insomma c'è un altro documento che è conservato alla biblioteca laurenziana che sono andato a vedere no questo è la biblioteca nazionale di firenze scusatemi che attiene alle memorie di benedetto dei benedetto dei era un personaggio famosissimo della firenze dell'epoca sconosciuto ai più ma era una sorta di ambasciatore della famiglia dei medici che viaggiava parecchio parecchio viaggiava benedetto dei sa che andava anche le canarie ma anche un po ai caralbi però vabbè e a un certo punto scrive una memoria di suo pugno manoscritta e dice memoria dal 15 di giugno 1480 di tutti i mercanti fiorentini che venuti sono a milano al tempo di benedetto dei e fa un lungo elenco di persone c'è anche luigi pulci via luigi pulci ok figura leonardo da vinci dipintore e atalante della viola quello con cui leonardo sarebbe arrivato nel 1482 a portare la lira a ludovico il moro quindi anche sulla scorta di quello che scrive benedetto dei nell'elenco di tutte le persone che lui ha portato a milano tra il 1449 e il 1480 figura leonardo da vinci dipintore questi sono documenti originali manoscritti dell'epoca e non gliene frega niente a nessuno quindi quando la gente guarda la fiction rai dichiaratamente finta però leonardo è arrivato a milano nell'ottantadue c'è scritto c'è anche il suo primo curriculum vitae sono tutte cazzate allora o sai la storia oppure non puoi permetterti di criticare questo succede non su leonardo questo succede in generale bisogna avere opinioni informate tra l'altro questo motivo per cui si possono rifiutare i vaccini ma questo è un altro discorso è un discorso molto caldo ecco tutto questo si applica tranquillamente alla narrativa imposta in questo momento riguardo alla pandemia eccetera quello che voglio far capire proprio questo cioè analizzare leonardo analizzare la storia rinascimento è solo un pretesto è un pretesto per capire come te l'ho detto prima parlare a nuora finché fuocere in tenda cioè far capire alle persone come è nel nostro interesse sviluppare una conoscenza e una cultura è nell'interesse dei ragazzi sviluppare una conoscenza nel momento stesso in cui la cultura la storia vengono allontanate dal corso di studi didattici è essenziale invece che questo rimanga perché altrimenti andremo sempre più incontro a una società in cui ciò che conta unicamente è quanti like hai fatto quante visualizzazioni perché vinci la pubblicità perché la ferragni guadagna un sacco di soldi con le ciabatte da 175 euro perché gli uffizi la chiamano perché altrimenti giovani non vanno agli uffizi ma raccontagli la storia così che i giovani vanno agli uffizi questa cosa ripeto è talmente diffusa è talmente oramai entrata nell'opinione pubblica che quando vengono fatte le celebrazioni di leonardo anche con attraverso un libro scritto da isaacson cioè ex capo della cnn ex capo dell'aspen institute eccetera eccetera viene scelta come immagine di riferimento di leonardo il ritratto di acerenza che qualcuno nel 2008 ha deciso di tirar fuori da un cassetto e dire questo è un ritratto autoritratto di leonardo che con leonardo non c'entra assolutamente nulla eppure di leonardo ci sono ritratti ovunque voi camminate per firenze e le statue di leonardo vi guardano vi guardano la sacrestia vecchia di san lorenzo vi guardano dalle edicole di or san michele vi guardavano perché adesso la statua è stata tolta dal battistero eppure per celebrare i 200 anni di scusate i i 500 anni della morte leonardo cosa si fa si prendono immagini posticce quasi inconsciamente a voler certificare il fatto che tutto quello che noi raccontiamo leonardo ma tutto quello che noi raccontiamo di un periodo storico e culturale è posticcio questo ripeto non vi serva per comprendere leonardo anche per comprendere leonardo ma serva assolutamente per comprendere come oggi siamo mercè di persone a cui interessa unicamente vendere fare fatturato sembra il milanese imbruttito fighe fatturato fighe fatturato adesso uguale non c'è assolutamente distinzione perché la conoscenza che poi porta a sviluppare quella cognizione del nostro rapporto con l'universo che è quello che forse è l'unica cosa che effettivamente dovrebbe interessarci è completamente dimenticata oggi interessa unicamente sapere chi è entrato in nomination all'isola dei famosi questo è veramente triste esattamente quando racconto queste cose o quando la gente poi non sa più come rispondere perché come avete visto ci sono delle prove documentali molto forti e solide cosa succede mi dicono sì ma tu sei un economista non hai studiato storia dell'arte non sono studiato storia non hai titolo per parlare sei un pazzo e allora io rispondo sempre come rispondo sempre alla fine di ogni conferenza ti svela un segreto i migliori sono tutti pazzi sono d'accordo beh anche perché freggiarsi della cultura accademica per dimostrare la preparazione quando ormai è evidente che la cultura accademica ampiamente manipolata voglio dire forse è veramente meglio chi ha fatto degli studi in maniera indipendente li ha approfonditi per passione e non perché doveva prendere titolo di studio e quindi si appiccicava quattro nozioni in testa manipolate evolute dal sistema in modo che fossero volutamente fuorvianti a questo punto forse è più fortunato chi quel percorso non l'ha fatto e ha studiato in maniera indipendente sono d'accordo con te però quando poi leggi sui giornali o i angela batte maria de filippi nella programmazione del sabato sera c'è non sai più dove buttare la testa perché tanto dove cadi cadi capito quindi c'è bisogno di una riconversione come dico sempre qualunque rivoluzione culturale economica politica sociale parte dal basso non bisogna aspettare che sia qualcuno dall'altro a condurre questa rivoluzione perché non ne ha nessun interesse quindi qualunque rivoluzione parte dal basso e parte unicamente attraverso lo sviluppo di uno spirito critico attraverso la condivisione delle conoscenze perché c'è poi anche questa anomalia non bisogna dare le perle ai porci non bisogna condividere certe conoscenze perché perché la conoscenza è stata utilizzata in passata come elemento di classificazione sociale invece la conoscenza va condivisa proprio perché non si debba nuovamente ricadere in quella schiavitù nei confronti di chi della conoscenza non gliene frega assolutamente niente quindi comprate il libro leggetene tutti anche perché c'è altre suocere le devo mantenere tutte e tre bellissimo io stasera ho avuto odino che ha voluto fare la dama col gatto anziché con l'ermellino che ha un nome pagano si chiama odino quindi già lì insomma senti comunque io ti ringrazio tantissimo come sempre per la live di questa sera spero che le persone possano trarre il messaggio finale di tutta questa live che non è solo l'acquisizione di maggiori consapevolezze rispetto alla storia di leonardo del rinascimento della manipolazione ma capire come ha funzionato e come funziona il sistema allora come oggi per poter fare qualcosa dentro di noi attraverso lo sviluppo di uno spirito critico e della come dire abbandono di questa fiducia cieca che c'è stata per tantissimo tempo e molti ancora ce l'hanno rispetto a tutto quello che gli viene detto che non viene mai né verificato né analizzato ma abbracciato come fosse una fede no sì però proprio davanti così non va tanto bene io non posso parlare non far vedere il culetto che non è bene scusate ecco c'è la cosa curiosa è che tutto questo tipo di informazioni che riguardano la storia che riguardano che ti posso dire la quella considerata anche scienza eccetera vengono accettate in maniera completamente a critica anche se discordanti tra di loro loro anche se distorte vabbè se le ha dette il sex symbol angela allora probabilmente la simbol della divulgazione scientifica italiana allora sì il senso è questo cioè non è il fatto di perché poi succede anche questo no storicamente il divide timpera no classificare tutto e mantenere per comparti stagni il problema è acquisire una forma mentis la forma mentis vale sia che tu stia analizzando le opere d'arte che tu stia analizzando un'impresa che tu stia analizzando quello che sta succedendo nel mondo che tu stia analizzando la situazione economico politica è la forma mentis che ti permette di analizzare e sviluppare in forma critica un pensiero relativamente a tutto quello che ci troviamo davanti questo è importante e l'unico modo per poterlo fare è mantenere un livello di conoscenze ampio diffuso anche passando per quella multidimensionalità che tanto mi viene criticata cioè perché uno non può parlare di leonardo di musica di storia quando sono collegati perché forse non lo sanno fare o perché forse sono spaventati dal fatto che scoprono che tutto effettivamente collegato ma questo è un problema loro deve rimanere un problema loro perché se tutto è collegato allora maggior ragione qualunque analisi noi facciamo che sia sulla colazione che stiamo facendo la mattina ossia lo stato economico sociale del mondo intero deve sviluppare lo stesso spirito critico mettendo insieme più informazioni perché poi le informazioni ci sono tante sono drogate ma le informazioni sono le informazioni ci sono e oggi ce ne sono anche di più c'è tanta confusione e si parla tanto di libero arbitrio di scegliere ma bisogna ricordarsi che per poter scegliere bisogna avere le informazioni avere uno spirito critico per poterle valutare se no non è possibile e vi ho dimostrato cioè allora non è che io abbia accesso a dei canali privilegiati per cui abbia chiavi di apertura di scrigni particolari per cui quello che ho trovato e vi ho mostrato stasera lo posso vedere solo io cioè vi ho dimostrato come una persona normalissima che non ha una formazione accademica può accedere a un controllo delle informazioni se usa la testa se ha la capacità di mettere a confronto dei dati che sono dei dati documentali documentabili ripetitivi e questo si può fare si può fare nei riguardi della pandemia si può fare nei riguardi del numero dei contagiati e si può vedere che ad esempio no vi faccio un esempio diversa non so se l'avevo fatto qua ero all'inizio di questa mia nuova vita innesima nuova vita e stavo studiando tutte le cose che poi mi hanno condotto fino a qua c'era rula gabreale intervistata da vespa e parlava presentava un libro non so diceva qualcosa a un certo punto sono uscita dicendo che il popolo italiano 10 milioni italiani vanno a puttane e l'osservazione è passata ma gli italiani povere donne io tra me e me ho detto ok 10 milioni 160 dividiamo per due anche se le donne sono di più e fa 30 togliamo i bambini togliamo i vecchi cioè 10 milioni brava brava 5 secondi facendo 3 conti a memoria quindi le possibilità ci sono ce li abbiamo tutti anche mettendo contando sul naso ci arriviamo tutti il problema qual è la forma mentis non accettare tutto quello che arriva ma cazzo l'ha detto alberto angelo un figo visto però insomma no quando uno dice che la raucaria nei dipinti è così perché i giardinieri fiorentini avevano la modo di dipingere di tagliare di potare gli alberi in quel modo ti sta prendendo per il culo o quando leonardo disegnava paesaggi di fantasia e quindi i suoi paesaggi non esprimono nulla di reale venite da me e vi faccio vedere cosa succede quindi quella disinformazione ed è una disinformazione voluta profondamente voluta alberto angelo è riuscito a venire qua a lecco a fare una trasmissione sui promessi sposi che tutto il mondo sa essere collegati alla città di lecco e lui riuscito a fare due ore di trasmissione sui promessi sposi senza citare lecco questo non è campanilismo questo è per dire che cazzo di racconti fa quello quindi è la forma mentis quella che ci permette di essere critici su tutto critici non vuol dire essere come il mio amico svaldo che rompe i coglioni su tutto critici vuol dire passare al setaccio le informazioni che riceviamo dopodiché buttiamo via la testa la coda come quando si fa la grappa e si tiene il buono ma io ti ringrazio tantissimo spero che questo metodo piano piano possa essere contagioso e sempre più persone possano iniziare ad allenarsi perché ovviamente abbiamo avuto un lungo allenamento al contrario di non avere spirito critico di accettare tutto e quindi cominciare a muoversi in direzione opposta significa la necessità di vincere una sorta di inerzia interiore per cui ovviamente accettare a criticamente tutto quello che viene detto oggi come oggi risulta più comodo in realtà più comodo più o meno perché poi ci fanno fare qualsiasi cosa con questa giustificazione risulta poi a lungo termine essere altamente svantaggioso ma apparentemente minimo sforzo e quindi un po questo luogo comune che va combattuto secondo me e in questa live tu l'ha espresso greggiamente dal basso non aspettiamo che siano altri a farlo per noi dal basso ma certo avviciniamo gli altri figli avviciniamoli a una conoscenza non lasciamo l'imbalia delle tante cazzate che gli vengono raccontate siamo noi i primi a diffondere questa inversione di conoscenza e come possiamo farlo documentandoci e dove lo possiamo fare sui libri riccardo magnani grande grazie riccardo grazie a tutti buonanotte ci vediamo la prossima settimana con tutti voi buon weekend e grazie ancora per essere stato con noi e forza inter ciao a tutti buon anno ciao 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 ciao